Seconda Epistola ai Tessalonicesi Capitolo Terzo Or fratelli, noi vi ordiniamo nel nome del Signor nostro Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si conduce disordinatamente, e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi, poiché voi stessi sapete com'è che ci dovete imitare, perché noi non ci siamo condotti disordinatamente fra voi, ne abbiamo mangiato gratuitamente il pane da alcuno, ma con fatica e con pena abbiamo lavorato notte e giorno per non essere da gravi ad alcun di voi. Non già che non abbiamo il diritto di farlo, ma abbiamo voluto darvi noi stessi ad esempio perché ci mitaste, ed in vero quando eravamo con voi vi comandavamo questo, che se alcuno non vuol lavorare neppur deve mangiare, perché sentiamo che alcuni si conducono fra voi disordinatamente non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose vane. A quei tali noi ordiniamo e li esortiamo nel Signor Gesù Cristo che mangino il loro proprio pane quietamente lavorando. Quanto a voi, fratelli, non vi stancate di fare il bene, e se qualcuno non obbidisce a quel che diciamo in questa epistola, notatelo quel tale, e non abbiate relazione con lui affinché si vergogni. Però non lo tenete per nemico, ma ammonitelo come fratello. Or, il Signore della pace vi dia egli stesso del continuo la pace in ogni maniera. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia propria mano, di me Paolo. Questo serve di segno in ogni mia epistola. Scrivo così La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.